Uomini e donne anticipazioni, le parole di Paolo Cridellin prima della scelta. Anticipazioni uomini e donne, scelta di Paolo Cridellin, le dichiarazioni fatte prima della puntata. Oggi lunedì 5 febbraio va in onda a Uomini e Donna la scelta di Paolo Cridellin. Dopo un lungo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi il tronista pare essere finalmente arrivato ad una conclusione. Chi sceglierà tra Angela Caloisi e Marianna Acerno? Se prima tutti davano per scontato, che la scelta di Paolo propendesse più verso la napoletana, ad oggi, molti i campanelli d'allarme che invece potrebbero confermare il contrario. Cridellin si è detto in molte occasioni confuso e non pronto a scegliere questo, come molti già sanno, lo ha portato a rimandare in continuazione il giorno della scelta. Oggi però è ufficiale, Paolo farà la sua scelta. A tal proposito, propri pochi minuti fa, Wittitv ha rilasciato un video inedito dove, per la prima volta dopo tempo, è riapparso Paolo Cridellin. Nelle registrazioni passate fatte in studio, infatti, di lui non si è più parlato. Su Wittitv però è stato mostrato finalmente il tronista che, prima della sua scelta, ha voluto dire alcune cose. Quali sono state le sue parole? Non mi sono preparato discorsi, mi vivrò il momento, dice Paolo alla telecamera da domani si stravolge la mia vita in senso positivo se le cose vanno bene. Per come son fatto rifarei sempre tutto, aggiunge poi Cridellin perché se alla fine si è se stessi, per quanto poi si possano fare degli sbagli, non si fa mai un errore nei propri confronti se si segue l'istinto. Uomini e donne, chi sceglierà Paolo Cridellin? Certo è che, stando a quanto dallo stesso affermato, non è facile capire chi possa essere la scelta di Paolo. Angela Caloisi e Marianna Acerno? Proprio poche settimane fa era stato lui stesso a definire la napoletana una scelta di pancia. Forse si riferisce a lei quando parla di istinto? Per scoprirlo, oramai, non ci resta che aspettare ancora un po'.